devi farci la produttata più avanti insomma questa radici qua non è che mi piace ma sono scivologi i salsi non è semplice giro bene la moto mettilo lì 30 ancora bravo così devi dare in terzo mettilo in terzo a dagli no no se salsi caldo no no vai te no aspetta l'ora no io non vengo su io fuori a corda no 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 aspetta eh aspetta eh vai 1,2,3 vai aspetta aspetta che provo aspetta che provo ora ora che provo aspetta che provo aspetta che provo aspetta che provo non è la prima volta che la faccio quando è bagnata aspetta aspetta che provo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.